Noi dobbiamo pensare a fare una buona partita, deve parlare il campo, dobbiamo fare una bella partita, sappiamo che ci saranno tante difficoltà, ma difficoltà tecniche, perché il Genoa è una squadra che tecnicamente è una buona squadra. Intanto io sono convinto di avere una squadra competitiva e quindi trasmetto a loro questo, che io davvero ho piena fiducia nei giocatori che alleniamo, perché per me i nostri giocatori hanno delle qualità, lavorano bene, hanno qualità, allora per quale motivo non fare bene e pretendo, quindi io sono convinto che noi abbiamo delle buone qualità come squadra e pretendo che queste qualità individuali e di squadra, pretendo che queste qualità vengano fuori, tutto lì.